mamma dove carlos carlos hai studiato per domani o hai librato studiato o librato e cioè mi sono impegnato a fare una cosa ah ok tipo tipo che cosa però librare tu non è librato allora no librare vai a librare ho librato perché c'è un libro digitale sul telefono utilizzato no no devi librare quello che c'è domani cose scolastiche ciao ragazzino mi 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 mi